Ciao a tutti, oggi è 13 maggio, sono le 5.29 del mattino, combatterò contro due MIG-29 con solo il GAN. Ok, speriamo che va bene. Grazie a tutti. 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 di bronzo, medaglia di bronzo sterna, stella di bronzo, ok, devo anche accendere tutto, via, potrei sparare ma non lo faccio, alla prossima. Uno è andato? Cerchiamo l'altro? Non lo vedo nel radar, uno va giù, l'altro è dietro, uno è caduto, ecco lì, l'altro rompo questa posizione così, di fianco Passiamo, aviciamo, 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 aviciamo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giù due mig abbattuti e io ho bisogno del label, non li vedo, perché purtroppo la grafica è quello che è. E quindi quando avrò un computer potente, ok. Quando poi vedrò, e si vedrà meglio, io toglierò queste label. Quit. Tutti e due abbattuti, il video è finito, al prossimo video, buonanotte, buonanotte a tutti e buongiorno a chi si sveglia e buon pomeriggio a chi vedrà il video. Ciao ciao, ciao a tutti, buonanotte.